Sono state concluse le indagini per l'inchiesta InterNOS coordinate dalla DDA di Reggio Calabria in cui ci sono 26 persone indagate. L'indagine si è concentrata sull'infiltrazione negli appalti dell'azienda sanitaria provinciale del capoluogo dello stretto. Il procuratore Giovanni Bombardieri, l'aggiunto Gerardo Dominiani, oggi procuratore generale, APM Walter Ignazitto, Giulia Scavello e Marica Mastrapasqua hanno infatti notificato l'avviso agli indagati, tra cui c'è anche l'ex consigliere regionale Nicola Paris, eletto nel 2020 con la lista dell'Udc e arrestato nell'agosto scorso con l'accusa di corruzione. Secondo l'accusa, Paris avrebbe cercato di intervenire con il presidente facente funzioni della regione Antonino Spirli per sollecitare il rinnovo contrattuale per Giuseppe Corea, direttore del settore gestione e risorse economico-finanziarie dell'azienda sanitaria. Corea è per gli investigatori la persona grazie alla quale le imprese vicine ai clan Serraino, Ia Monte ed a quelli della Locride avrebbero ottenuto gli appalti. Nel capo di imputazione, gli indagati sono accusati di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione indeterminata di delitti di corruzione, turbata libertà degli incanti, astenzione dagli incanti e più in generale di delitti contro la pubblica amministrazione. L'avviso è stato notificato anche all'ex direttrice generale dell'ASP Rosanna Squillacioti, l'ex commissario Francesco Sarica e alla dirigente dell'ufficio programmazione e bilancio dell'azienda Agera Minniti, accusati di turbativa d'asta. Domenico Salvatore Forte, ex primario del pronto soccorso dell'ospedale di Locri, è invece indagato per traffico di influenze assieme al collaboratore amministrativo dell'ASP Francesco Macheda.